Una delibera massacra famiglie. Queste le dure parole dei gruppi consigliari aria centrodestra Grande Catania sulla vergognosa delibera approvata dalla maggioranza comunale sui asili nido. Questa mattina presso la sala coppola del Palazzo degli Elefanti una conferenza stampa per denunciare ancora una volta quella che per loro si tradurrà in meno di tre mesi in un disastro per le centinaia di famiglie che usufruiscono del servizio. Se infatti da una parte diminuiscono i costi per l'amministrazione comunale, dall'altra invece aumenteranno quelle per i genitori. L'assessore ha detto che ci saranno nuovi posti di lavoro e sono diminuiti i costi per quanto riguarda l'amministrazione. Non è assolutamente vero perché il costo è aumentato del 400% per i cittadini e soprattutto per i bambini che dovrebbero andare agli asili nido. Noi riteniamo che questa delibera non vada assolutamente bene. Siamo arrivati fino alle 5 di mattina per gli emendamenti. Una polemica che non sembra accennare a soluzioni con tanti punti interrogativi. A partire dalla presentazione di alcuni emendamenti che venivano valutati dai cosiddetti tecnici in modo diverso a seconda di chi li proponeva. Per essere più precisi, se l'emendamento arrivava dall'opposizione non andava bene e c'era sempre qualche cavillo. Viceversa, se era presentato dalla maggioranza, veniva subito accolto. Ma stiamo parlando di emendamenti simili, identici, che differivano solo di qualche virgola. Strane anomalie, o meglio dire due pesi e due misure, che di certo creano preoccupazioni e ancora più allarme. Ho tenuto la maggioranza inchiodata sulle poltrone per 12 ore di fila proprio per questo motivo, perché il regolamento non si allinea in nessun caso con i parametri di legge. Abbiamo non solo tentato di modificarla politicamente, dando indirizzi politici, che non sono stati chiaramente accettati. Abbiamo provato a modificarla dal punto di vista tecnico, quindi inserendo dei parametri di legge che sono necessari in un regolamento che deve garantire trasparenza. Anche questi sono stati rifiutati e a questo punto noi crediamo che ci sia qualcosa dietro e andremo anche a scoprire il motivo per cui questi emendamenti non sono stati approvati. Questa delibera porterà all'interno del Comune di Catania, che in parte, secondo noi, devasterà un servizio storico che già è stato depotenziato all'origine, quello degli asili di nido, perché chiaramente creeranno dei falsi posti di lavoro, creeranno delle false promesse, che possibilmente con questo tipo di gestione mista, senza un regolamento, senza una commissione di vigilanza che avevamo proposto di istituire, sicuramente non porterà a un sviluppo. Una battaglia ancora tutta aperta, con toni che restano infuocati e che, secondo i consiglieri di Grande Catania e area centrodestra, scoppierà con il 2014. Sarà questo anche un crollo degli iscritti, questo crollo degli iscritti determinerà problemi nel pagamento delle cooperative. Solamente che stavolta, dopo aver fatto tutti gli interventi possibili e immaginabili da un punto di vista politico, costruttivo e anche ostruzionistico, ma che non sono stati apprezzati, ci troveremo costretti a fare le nostre opposizioni in strada.